Questa è la sfida finale di tutte le challenge di StumbleGuys Perché avete presente no la sfida che non puoi toccare un colore su StumbleGuys Se no devi scioppare Ecco, noi faremo una cosa clamorosa Perché non è che oggi non toccheremo un solo colore, ad esempio il giallo Ma non toccheremo il colore che ci esce scioppando la ruota della fortuna Si, avete capito proprio bene Ad esempio, andiamo subito con la prima così ve lo faccio capire Andiamo così, ruota della fortuna rara Abbiamo tutte le rarità, leggendaria, epica, blu, giall'arangione, verde, quello che vi pare Vediamo cosa ci esce Ed eccolo, eccolo qua Blu, non possiamo toccare il colore blu per una partita intera Se no ci toccherà scioppare ancora È uscita la mia canzone scioppando Parodia di Shakerando su YouTube e Spotify Andatela a ascoltare e partecipate anche voi alla scioppando challenge Fate il balletto nel luogo più strano che vi viene in mente E i migliori parteciperanno a un video in cui balliamo la canzone con Mattiz Link in descrizione E quando parlo di scioppare, parlo di scioppare la ruota epica La più costosa di tutte ovviamente Adesso iniziamo Allora io per, per essere proprio fedele alla challenge al 100% Mi voglio mettere, eccola Una skin blu, ad esempio il panda direi che è perfetto E andiamocene in partita Considerate che se il pavimento della mappa sarà blu Io avrò perso in automatico Cioè, per questo che vi dico che è una challenge a dir poco impossibile Fortunatamente questa volta abbiamo il pavimento rosa Oh mio Dio, aspetta, non me ne ero accorto Il muro è blu Il muro è blu, quindi non devo toccare assolutamente il muro Ok, dobbiamo stare più al centro possibile, raga Dobbiamo stare più al centro possibile, raga Perché qua è rischiosissimo Qua è rischiosissimo Aspettiamo che scende Raga, non posso toccare il muro blu Non posso toccare il muro blu Oh mio Dio, ce la stiamo facendo Non so nemmeno io come Vai panda Vai panda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Forse mi salto la scioppata Forse mi salto la scioppata Perché io sto scioppando Sto scioppando Ah, sto scioppando No, sono caduto Va bene, riproviamoci Oggi non studio ma sto spacchettando Dai, dai, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Sì, sì, non toccare il blu Non toccare il blu Tuffati Oh mio Dio, mi sono qualificato senza toccare il blu, raga Non è vero Non è vero Ci meritiamo un ritornello Lei pensava che io stessi studiando Ma in realtà non sapeva che io stavo scioppando Sto scioppando Ah, sto scioppando Ok, ci siamo dati la carica portafortuna di scioppando Tra l'altro, raga, due milioni di visualizzazioni in nove giorni, otto giorni Non so davvero come ringraziarvi Grazie, grazie e ancora grazie, vi voglio bene Adesso però stiamo già preparando la prossima canzone Spoiler incredibile, sono morto Sono morto Sono morto Ho spoilerato una cosa clamorosa E sono morto Cioè, ho fatto due cose che non dovevo fare in uno Cioè, in un secondo Ma io dico, no, ma mannaggia la miseriaccia straccialatra Niente, raga, abbiamo perso E ho toccato il blu E è andata così E non so che cosa dire Facciamo un emoto che piange perché Cioè, non ho Ma posso quittare, almeno Non si può nemmeno quittare in questo cavolo di gioco Niente E ho deciso così il gioco Ho deciso di farci perdere Io adesso devo Ma, amica mia Allora, tu O stai facendo la mia stessa challenge Oppure Vai Muovi quel sedere Vai a conquistare la vittoria Ti spingo Adesso la spingo io a questa Adesso la spingo io a questa Ma porca miseria Tu che hai la possibilità Ma vai a vincere Non sei una youtuber Non stai facendo la challenge come me Ok Vai Vai che hai ancora una possibilità Ma cammina Dina Oh, ragazzi La sto portando io La sto portando io Divertentissimo Questa cosa è divertentissima La sto portando io Guardate Ok, ora non dobbiamo farla cadere No Non l'ho fatto in tempo Ok, va bene Come promesso La promessa È una promessa Delle promesse Shoppiamo tutti quanti insieme Perché Ok Io mi farei un bel per tre Direi che come penitenza Un bel per tre Di girata ci sta Comunque questo non è il mio account Ufficiale Non so se l'avete visto Non mi ricordo nemmeno come si chiama questo account Però è uno dei miei 377 account Che utilizzo In cui probabilmente Non abbiamo nemmeno Una Una speciale E no, mi sa che non ce l'abbiamo La speciale Oh mio Se mi usciva la speciale qui ragazzi Impazzivo Se mi usciva la speciale qui Impazzivo Il mio account si chiama Eumatisson Eumatisson E no Non abbiamo nessuna speciale No, infatti Mi mancano tutte e quattro Va bene Adesso però continuiamo Io raga scelgo sempre La ruota rara Perché con la ruota rara Abbiamo più possibilità Di trovare qualsiasi Anzi no Forse con la normale C'è più possibilità Sì, sì Ho sbagliato raga Dobbiamo usare la normale Per fare questa challenge Perché c'è più possibilità Di trovare qualsiasi Rarità del gioco Tranne la speciale Quindi se anche voi Volete fare questa challenge Con i vostri amici Mi raccomando Usate la ruota Quella più comune Che è anche la meno costosa Adesso Equipaggiamoci Stumble Jean Non possiamo andare Su posti grigi O bianchi Attenzione Eh Attenzione perché A parte La mappa della luna Che quella è tutta grigia Quindi abbiamo perso In automatico Le altre non sono grigie Ah no Anche quella dei laser È grigia Ok 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 Rischiamo davvero tanto Anche in questa partita Però ve lo dico Io Io voglio vincere Sta sfida Quindi non mi interessa Quanto tempo ci metteremo Oh mio dio no 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 Ci sono le pietre grigie Ma non è vero Ok raga Devo prendere un vantaggio Clamoroso Devo prendere Devo schivare queste pietre Innanzitutto Devo schivare queste pietre Innanzitutto Ok Vabbè Sta challenge è complicatissima È complicatissima Ma io sono Io Mattis Non si può Plea Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Vai Vai Mattis Fagli vedere chi sei Fagli vedere chi sei Non cadere Non cadere Non cadere Non cadere Sono caduto Ok Non fa niente Non fa niente Perché noi facciamo così Tanto Ecco Lì Lì ora Come cavolo dovrei vincere io Come cavolo dovrei vincere io qui Non posso passare sul grigio raga Non posso Oh 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 Non so nemmeno io come ho fatto raga Non sono passato sul grigio eh Non sono passato sul grigio eh Dimmi che mi qualifico Dimmi che mi qualifico Vai 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 Vabbè raga Vabbè Vabbè Ciao Ciao Oh Queste sono le mappe che mi piacciono Amico mio Amico mio Sì Tutto bello azzurro Come piace a noi Qua possiamo toccare tutto Perché nulla è grigio Anzi la palla di neve è bianca Ora che ci penso Sì vabbè però È di un bianco Sempre tendente all'azzur Ok Se mi becca la palla di neve sono morto Ok Salta Mi ha beccato la palla di neve Me la volete concedere comunque Perché in realtà la skin comune è grigia e non bianca Allora facciamo che me la concedete comunque Perché Ma Ma io mi Ma stai a vedere che adesso io non mi devo qualificare qui eh Stai a vedere che adesso non mi devo qualificare qui Ok Jump Jump No raga se non mi qualifico Se Cioè se non mi qualifico Merito davvero di 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 non giocare più a questo gioco Ok Andiamo Allora Tecnicamente la skin comune è grigia raga Non è bianca come la palla di neve Però vabbè Se non me la volete far valere comunque Scrivetemelo nei commenti Perché tanto mi sa che Non ci qualificheremo Non ci qualifichiamo Non ci credo Non è vero Non è vero No non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Mi viene da piangere Sono un nabbo E via Di altre shoppate Sapete che vi dico Stavolta ci facciamo un bel per 5 Chi se ne frega Tanto io sto shoppando Sto shoppando Ah sto shoppando Però mi sono pure rotto di shoppare A una certa eh E mi sono pure rotto Ma faccio schifo Sono un nabbo Per una volta che avevo la possibilità Di qualificarvi in finale Mi è Mi è zero Devo fare schifo Devo fare la figuraccia davanti a YouTube Italia Mannaggia Misericaccia straccialatra che non sei altro Va bene va bene va bene Concentrazione Abbiamo ancora altre possibilità Ce la dobbiamo fare Adesso troviamoci ste skin Che tanto non ci servono a nulla Perché noi vogliamo solo le speciali E tu mi darai Una epica Ovvio Pure doppione Wuh Bravissimo Ok ok Andiamo avanti Allora Un altro giro di ruota Dai 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 Vediamo cosa ci esce Vediamo cosa ci esce Non so nemmeno per cosa tifare Perché tanto i colori in questo gioco Ci sono di qualsiasi tipo Viola Ecco qua Non possiamo toccare il colore viola Molto bene Ah che bello Vedere già da questa preview Delle mappe Che alcune sono completamente Eccola lì Bella Bella Guarda Mamma Vabbè Vabbè lasciamo stare Allora raga Le pale da bullying sono viola Eh Sì Non so che altro modo rispondere Se non Le pale da bullying Sono viola Io muoio Oh mio dio l'ho schivata Oh mio dio l'ho schivata Oh mio dio l'ho schivata Oh raga sto schivando No raga sto schivando tutte le pale da bullying Ditemi che è uno scherzo Ditemi che questo è uno scherzo È ancora pieno di pale da bullying Non cantiamo vittoria Oh no Oh no Arrivano Schiva Schiva Oh mio dio Le ho schivate tutte Le ho schivate tutte No 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 Non mi qualifico Ah voglia che mi qualifico Ma cosa sto dicendo Vabbè Sentite Dopo questa mi merito di vincere il torneo mondiale di Istanbul Guys Ok Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no E io non lo accetto Sentite questo non è viola Questo è rosa Posso fare di tutto pur di schivarlo Ma è impossibile Questo Cioè guardate se volete cammino pure sopra sti cosi Oh guardate Guardate che faccio L'importante è che non mi Oh raga se vinco così eh Raga se vinco così Raga se vinco così Me lo merito Me lo merito con tutto il cuore Me lo merito con tutto il cuore No qui devo andare per forza No ho sbagliato Ho sbagliato Vabbè sentite qua devo andare per forza Non me ne frega niente Mi volete far perdere la challenge Fatemela perdere Ma io mi qualificherò comunque Perché sta mappa è tutta rosa Quindi significa che io non posso farci niente Ok Non è colpa mia E questa challenge che è troppo crudele Troppo crudele per i miei gusti Ma io Mi qualificherò comunque Ah Ok mi sono qualificato Sì lo so Potrebbe sembrare non valido Tutte quelle cose lì Eh avete ragione Avete ragione Non è valido Ma sentite con una mappa Completamente viola Come posso io provare a qualificarmi Posso fare anche le cose più assurde della storia Ma sempre viola dovrò toccare prima o poi E vabbè E niente E niente Lo sapete che Lo sapete che cos'è Una presa per il sederino culino Lo sapete cos'è Questa Questa qua Guardate Ecco cos'è E questa Quella in cui io Io E il matisson Ho toccato il viola E toccherò il viola Per Per tutta la Partita Perché il pavimento è viola Io non Non so come reagire a una cosa del genere Adesso come nel minimo ci sta pure che vinco E la vittoria non è valida E mi tocca scioppare comunque Perché È ovvio che mi tocca scioppare comunque Ho toccato il viola per Per due mappe consecutive Sono nella prima Non l'ho toccato Mamma mia che fastidio Mamma mia che fastidio Guarda Perderei Perderei proprio per Perché mi fa arrabbiare sto gioco Ma sono troppo forte Quindi vinco Sono troppo forte Quindi vinco Ecco come va a finire Guarda Siamo rimasti 1 vs 1 1 vs 1 siamo rimasti Questo ora cade Questo ora cade No si è qualificato Si è qualificato Ok Vado Vado Ma questo Questo pensa davvero di potermi battere Questo pensa seriamente di potermi battere Vai Vai E perdi E perdi noob che non sei altro E perdi noob che non sei altro Oh no Ok 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 Attenzione qua Attenzione qua Ok Tuffati E si qualifica il mattino E vince Ho vinto Ho vinto Ho vinto Mi rendete conto Mi rendete conto Ho toccato il viola Per tutta la partita Ma ho vinto comunque Cioè vabbè Dopo questa Io non so che altro dire Signori Non so che altro dire Mi merito secondo voi Di scioppare Perché ho toccato il viola Oppure non me lo merito Perché ho vinto Scrivetemelo nei commenti So solo che è arrivato Il momento finale Quello della sfida finale Se vinciamo questa Siamo ufficialmente I campioni dei giochi Dei colori Su stumble guys Attenzione Skin grigia Skin grigia Questa è la finale Delle finali Dei finalissimi Quindi se ancora Non avete lasciato Un like Fatelo in questo momento Perché mi sto giocando Tutto per tutto E lo faccio per voi E lo faccio per voi Signorita e signoritos Signorita cicorita Ok Andiamo Lo sto facendo per voi La sfida finale Che decreterà Se sono un campione Di questo gioco Oppure no Va bene così E va bene lo stesso Perché ci siamo Qualificati Senza grossi problemi Livello 1 Andato Let's go La situazione Sembra essere Abbastanza easy Anche qui Però dobbiamo stare attenti Perché se spawniamo Su una pietra grigia Abbiamo perso Sì avete capito bene Abbiamo perso Perché mi è capitata La skin comune Che equivale a grigia E in questa mappa Ci sono delle pietre Che spawnano E sono grigie Quindi se mi spawnano Sotto i piedi Ho vinto Anzi no Che ho vinto Ho perso Ho perso Senza accorgermene Ok jump Muy bien Muy bien Un matison Stiamo andando Alla grande Stiamo andando Alla grande Siamo morti Perché siamo dei nabbi Non stiamo andando Alla grande Ok No raga Ma non è vero Non pensavo Ok Dai riproviamoci Siamo ultimi Porca miseria Siamo ultimi Vi rendete conto Che siamo ultimi Ve ne rendete conto Non mi qualifico Non mi qualifico Nemmeno a sto giro Ho vinto l'unica partita Prima barando Ok Qua non posso toccare il grigio Abbiamo per forza perso Perché andrò lentissimo Senza poter toccare il grigio Per forza Per forza così Per forza di cose Vabbè sentite Ok Sono un fallimento totale Una partita Ce la siamo portati a casa almeno Adesso io scioppo Se trovo una speciale Spacco tutto Se no Mi accetto la sconfitta Me l'accetto Me la prendo Per 5 strategico Senza pensarci Bodo Bom Per 5 così Vi saluto in questo modo Vi saluto in questo modo Senza pensarci troppo Ottimo Bella Bella Interessante Bella di padella Speciale E ovviamente non me la dà Mi dà quella a fianco No mi dà quella viola a fianco Vediamo un altro Un altro Magari c'è qualcosa di più sensato Non è 0 0 di 0 di 0 di 0 di 0 Tutte epiche Tutte epiche Cliccate nei video che sono comparsi in questo momento Perché non stiamo trovando nulla Non stiamo trovando nulla Nulla di 0 di nulla Leggendari almeno Niente nemmeno 5 su 5 Dopo questa Posso dichiararvi ufficialmente Che non troveremo mai una speciale Su questo account Questa è la punta